Per me è un grande onore e una grandissima soddisfazione e sono veramente soddisfatto di essere arrivato a questo risultato. Questa stagione è una stagione veramente fantastica, con molti successi, uno più bello dell'altro. Perciò devo ringraziare tutta la squadra che mi ha permesso di fare questi grandissimi risultati. E' stato premiato come atleta dell'anno Antonio Tiberi del pedale Toscano Ponticino, giovane promessa del ciclismo aretino, assieme a Giulia Capacci, un esempio per il tennis aretino. Si è rinnovato anche quest'anno nella Sala dei Grandi della provincia il tradizionale appuntamento del CONI di Arezzo con la festa dello sport, nel corso del quale sono stati premiati coloro che a vario titolo si sono distinti in attività legate alla pratica sportiva. Ci sono tanti atleti, tanti giovani, sicuramente per quanto riguarda il Comitato Olimpico a livello territoriale rappresenta una delle giornate più significative della stagione, tante discipline sportive, tanti volontari siamo contenti. Noi rappresentiamo 365 discipline sportive all'interno delle federazioni, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione, delle benemerite. È un mondo variegato quello dello sport, però davvero la sintesi fondamentale sono soprattutto la passione e il volontariato.